Siamo a pianeta di Montalto e Fugo, sono passati anni, riunioni, assemblee, promesse, è stato detto di tutto, ma l'elettrodotto è ancora qui con il suo fricicolio. Niente, si è venuta a vedere, a guardare, ma non abbiamo visto nessuna cosa di bella di fare, non hanno fatto niente. Eh, se no si era muovuta una cosa, no, ma sono tre anni, non è poco. Io ho paura per i figli perché sono malato. Io sono vecchio, ma i figli mi dispiace perché mi danno sangue ogni otto giorni. Sulla testa della gente, sulle case, un incubo per chi ci abita sotto. I figli, così chiamano i cavi dell'alta tensione, sono lì e fanno paura. E sappiamo che questa cosa è buona, che noi ci abitiamo proprio sotto. Questo, volessimo che il governo, un poco, dice che, se avessi di muovere, se avessi di muovere, come si muovere. Eh, dice che c'era anche il governo da così, ma io torno per le scuole, dice che da così. Che fanno? Che fanno? Ancora una volta una denuncia, ancora una volta le esigenze della gente rimangono inascoltate. E la politica è ferma alle parole. La politica ci ha abbandonato, città degli abitanti di Pianette e di Lucchetta. Noi non vogliamo che assolutamente si venga a parlare e si venga a rispolverare adesso questo argomento solo perché ci avviciniamo all'elezione. I sindaci che si sono, come dire, resi dei palatini di non sappiamo che cosa, perché non sappiamo che cosa vanno a difendere, se non le castagne, se non gli alberi, se non i funghi che sono sui montagne. Tutto fermo, nessuna muove una foglia. I comuni litigano tra loro per il nuovo percorso e la situazione è questa qui. Avevo la mamma e il papà, mamma e il papà sono campati abbastanza, il papà mi ha campato 105 anni, avevo risenze come giovane. Io sono rimasta sola, con i figli malati, prima sono morta e dovete.